perfetto siamo in diretta a voi la parola benissimo inizio io buonasera a tutti grazie di partecipare a questo rinnovato incontro con il professor con il professor sabatini e con la professoressa maraschio per la società d'anta ligheri comitato di fiorenze è un grande onore avere la loro presenza il loro intervento io mi scuso per quanto è accaduto la volta scorsa purtroppo è stato uno spiacevole incidente ma grazie all'accademia della crusca che sta organizzando questo incontro credo che l'incidente non potrà ripetersi o abbiamo questa certezza quindi veramente grazie anche all'accademia della crusca per questo supporto così significativo e grazie soprattutto al professor sabatini alla professoressa maraschio credo che avevamo già iniziato le presentazioni la volta scorsa e quindi e poi credo che il professor sabatini non abbia veramente alcun bisogno di essere presentato soprattutto in questo ambiente però mi è venuto in mente francesco di una cosa che forse poco nota quando noi abbiamo iniziato a lavorare insieme io allora dirigevo la biblioteca nazionale e tu eri presidente della crusca quando abbiamo iniziato a lavorare sul progetto biblioteche speciali perché fu significativa quell'esperienza perché fu l'avvio della digitalizzazione in pratica anche per l'accademia della crusca quindi quei progetti che rappresentavano chiaramente un un embrione della digitalizzazione credo che abbiano poi dato dei frutti veramente ricchi e importanti perché i cittadini credo che si colleghino all'accademia per i tantissimi servizi che l'accademia offre dalla consulenza linguistica a tutte le opere che ci sono state poi messe in rete i dizionari il battaglia i proverbi eccetera proverbi che poi a me come presidente della dante alighieri sono particolarmente cari perché in quest'anno diciamo come celebrazione dantesca ma in ritardo causa pandemia stiamo svolgendo con le scuole un progetto proprio relativo ai proverbi lanteschi e ci avvaliamo anche in questo caso della collaborazione della crusca e delle sue ricchissime fonti digitali che quindi saranno consultate anche dagli studenti quindi doppiamente grazie nicoletta se vuoi dire qualcosa buonasera a tutti ringrazio molto antonietta fontana e anche antonio palma che credo siano tra gli organizzatori di questo incontro naturalmente francesco sabatini che qui con noi io avevo già detto poche cose l'altra volta quindi non sto a ripetermi vorrei soltanto ricordare ancora una volta il libro di francesco che è così importante per tutti noi lezioni di italiano perché questo libro ha un carattere così originale nella sua dialogicità sono dieci capitoli sono intitolato dialoghi e altri dieci capitoli intitolati inviti no quindi un rapporto diretto con con il proprio lettore che è proprio la caratteristica di francesco sabatini che mi piace ricordare qui per quello che abbiamo fatto insieme all'accademia della crusca ma poi sempre e quello che è caratteristico della sua personalità di studioso di maestro di non mettersi mai in cattedra di collaborare in modo effettivo reale questa sua capacità di collaborare con persone di diverso tipo e soprattutto con i giovani e questo è una cosa che lui ha fatto come presidente dell'accademia in modo davvero straordinario l'altra cosa che che volevo avevo già accennato l'altra volta è che per iniziativa di francesco la crusca pubblicata all'anastatica della divina commedia del 1595 cioè ridotta ma a miglior lezioni dagli accademici testo fondamentale che sta alla base poi anche del vocabolario e già l'altra volta avevo citato ma lo riprendo dall'introduzione di francesco questa edizione è stata curata da domenico di martino e c'è una breve premessa mia ma c'è un'introduzione di francesco e poi un'introduzione di domenico di martino ecco francesco dice una lettura di dante perenne e sempre nuova e cito ancora quando è veramente grande un'opera d'arte è una fonte inesauribile di significati tanto che si può definire ogni secolo in base al particolar modo in cui ha interpretato la commedia c'è da chiedersi quale sia il nostro modo a pochi anni dal settimo centenario della morte del poeta ecco questo che che francesco ha detto della commedia forse si può dire anche sul de vulgari credo che oggi francesco si soffermi soprattutto sul de vulgari e quindi su dante padre non solo della lingua d'italia ma delle lingue d'europa e appunto questa lettura più larga del del de vulgari questa lettura anche politica del de vulgari è fondamentale forse e certo è stato detto anche in passato però nel corso di questo anno di celebrazione è stato detto con più forza e anche da francesco anche dati studiosi naturalmente e questo ci ci aiuta a capire meglio quest'opera che è stata davvero alla vanguardia della riflessione linguistica europea bene e mi fermo qui e sono molto curiosa e grande piacere di sentire francesco grazie grazie questo è il mio turno prima di tutto ringrazio maria ida la carissima direttrice della biblioteca nazionale di firenze luogo più centrale di questo per il mondo dei libri difficile immaginarlo grazie per la conoscenza che è avvenuta tra noi in quegli anni e per questo questa ripresa di contatti questa iniziativa grazie davvero e a nicoletta con la quale ho condiviso anni precedenti con tempo paralleli e successivi della mia presidenza all'accademia della crusca cosa posso dire che mi sono sentito immediatamente appoggiato da lei in tutti i modi confortato poi lei aveva mi portava la voce di nancioni ancora vivo nei primi anni poi non più quindi la tradizione nancioniana che passa attraverso nicoletta mi era di conforto di di confronto grazie per le cose che ha detto delle poche pagine molto divulgative che ho cercato di mettere insieme in questi anni perché c'è e lo vediamo da tante vicende ancora di questi anni c'è tanto bisogno di farsi capire raggiungere non dico le masse ma perlomeno quel mondo particolare che è la scuola che è sottoposta attenzioni da tutte le parti in tutte le direzioni noi dobbiamo naturalmente rivedere molte nostre opinioni molte nostre idee arricchire continuamente la cultura perché su alcuni temi da tante parti del mondo si si danno contributi cerchiamo di essere portatori a un pubblico al quanto più vasto di quello degli specialisti questo è un impegno un obbligo assoluto siccome ha fatto cenno nicoletta la così voglia di farmi capire la ringrazio per questa per questa annotazione e anche oggi tutto sommato io tratterò di temi abbastanza generali come indica il titolo di questa conversazione perché sono convinto che anche in questa occasione di ritorno a dante di approfondimento di dante eccetera ci sia un obbligo da parte di noi presunti specialisti chi lo è molto di più chi lo è di meno ma comunque che abbiamo certi ferri del mestiere in mano abbiamo l'obbligo di far circolare in un pubblico molto più vasto alcuni concetti fondamentali proprio per quanto riguarda dante l'opera di dante la figura di dante che sono convinto non circolino granché perché erano fino a un secolo fa veramente da specialisti e poi sottoposti a dispute molto tese e contrastate tra loro prima che si arrivasse a dare un'idea del contenuto delle opere teoriche di dante ci volevano eh i tempi attuali eh l'occasione del centenario per far capire quello che c'è dietro la commedia un'impresa anche questa immensa difficilissima comunque il mio tentativo è proprio quello di far circolare abbastanza più ampiamente l'idea di tutto ciò che dante ha pensato oltre che scritto prodotto in quell'opera ciclopica sulla quale ci leggiamo ancora noi eh come popolazione come eh eh cultura come organizzazione mentale potrei dire e dietro quest'opera ci sono naturalmente le riflessioni di dante e se qualcosa alcuni di noi possono dire è proprio questo da far capire se non c'era proprio un vero progetto l'ho scritto una volta in un articolo di appunto di larga diffusione tra virgolette eh io credo che sì si possa dire di un progetto di dante per la lingua italiana e su questo mi sto fermo ragionando con voi quest'ultimo in questa parte successiva della mia esposizione quindi mi riferirò molto di più al convivio e al divulgare eloquenza che non alla commedia anche se alla commedia stessa farò riferimenti precisando però subito un dato eh ben noto naturalmente che queste opere che per noi studiosi eh dell'opera di Dante sono fondamentali ricchissime sorprendenti grandiose grandiose anche queste non hanno avuto l'effetto diretto che ha avuto la commedia questo è facile dirlo è ovvio quello che ha agito potentemente nella società italiana nella cultura italiana e la lettura della commedia il commenti alla commedia le trasformazioni nelle app nelle le trasfigurazioni potremmo dire nelle arti visive perfino nella musica in alcuni casi è chiaro che Dante ha operato in queste attraverso queste vie queste opere eh quest'opera nella nostra società nella nostra cultura nella nostra esistenza come popolo più o meno organizzato ma dietro c'era il suo pensiero e gli faremmo un torto se non indagassimo e facessimo conoscere al di fuori delle nostre cerchie eh le sue idee specifiche brillanti straordinarie anticipatrici a vario titolo su tutto ciò che è lingua e funzioni della lingua nella società quindi mi riferirò molto di più a queste a questi scritti e anche cercherò di ricamare l'attenzione semplicemente sulla realtà sociopolitica dell'Italia del tempo questo sarebbe facile attraverso attraverso altri canali libri di storia libri di più ampia considerazione dell'Italia dell'epoca ma vanno richiamate alcune eh caratteristiche che si legano poi principalmente alla lingua e naturalmente i linguisti hanno della lingua linguisti moderni da qualche secolo a questa parte ehm hanno della lingua un concetto così ampio profondo risolutivo per quanto riguarda la formazione dei gruppi umani cose intuite già da da molto tempo da alcuni pensatori ma oggi più diffuse e il nostro compito di linguisti io non mi sento un critico letterario tantomeno un filologo dantesco e cose del genere cerco di introdurre queste osservazioni di carattere linguistico nella figura di Dante Dante ha davanti un'Italia nella quale c'è un fiorire di commerci lo sappiamo eh una grande vitalità economico commerciale finanziaria bancaria e pensiamo al fiorino 1252 la moneta più potente d'Europa e così via c'è arte c'è un fiorire d'arte poi contemporaneamente giotto basterebbe solo questo nome eccetera ma dal punto di vista politico e poi vedremo anche linguistico le cose erano completamente diverse come noi sappiamo è una nozione nota ma va richiamata perché Dante ha davanti a sé un'Italia che politicamente non ha una fisionomia non è un'Italia politica è un'Italia geografica al massimo infatti ogni tanto noi facciamo riferimento alle rappresentazioni geografiche per vedere che in qualche modo il nome Italia copriva questo territorio ma dalla geografia i fatti sociali politici eccetera ci passa molto quindi che ha una situazione di un'Italia politicamente nel senso di uno stato forte di un'organizzazione perlomeno sia pure plurima ma forte di appoggio alle altre manifestazioni culturali non c'era l'Italia dei comuni l'Italia delle risse nelle contese con un regno meridionale di una certa ampiezza ma sottoposto al potere politico esterno sia francese sia 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 prima tedesco poi francese di fronte a questa Italia così attiva culturalmente eccetera la situazione linguistica rispecchiava appunto questa condizione non solo tanto è vero che la vera lingua di cultura per tutti gli abitanti d'Italia era il latino circolavano ampiamente anche il francese specialmente attraverso tutti i traffici attraverso una letteratura già molto forte affermata divulgata e il provenzale addirittura in alcune parti d'Italia si scriveva in greco e si parlava greco per l'eredità antica e in alcuni porti si parlava l'arabo e quindi in un'Italia così ricca di tradizioni eh tradizioni linguistiche ma naturalmente priva di una eh unità linguistica di qualche genere e dominata presidiata fortemente dal latino bene e d'altra parte per quanto riguarda la lingua parlata un'Italia frammentata in una miriade di dialetti naturalmente parlare di questo tema non significa disprezzare questa realtà sappiamo che Dante li sbeffeggia eccetera perché ha tutta una ehm tesi da dimostrare e ce li documenta tra l'altro ma sappiamo bene noi oggi che la realtà dei dialetti italiani è di una grande importanza storica culturale per la ricerca eh in varia direzione quindi non si tratta di ignorarli o condannarli ma capire che davanti agli occhi di Dante si presentava e questo ce lo dice magnificamente nel De vulgari eloquenzia un'Italia della miriade di dialetti si diverte a prenderli in giro naturalmente prende in giro anche il fiorentino stesso perché non sembrasse ai lettori della sua opera che lui volesse fare del fiorentino parlato la lingua italiana no a tutta un'altra concezione alla quale sto cercando di avvicinarmi quindi un'Italia di questo genere è quella nella quale opera sia opera Dante si affaccia Dante un'Italia nella quale però c'è oltre a tanto fermento culturale manifestatosi in altre lingue e nelle arti oltre che nelle attività pratiche c'è una realtà diversa quella della tradizione di lingua poetica però limitatamente la poesia favorita da Federico II nel regno di Sicilia naturalmente occorre avere un'idea di come si trova questa presenza germanica in Sicilia e nell'Italia meridionale nel regno eccetera occorrono le coordinate storiche non sto qui a richiamare ma mentre invece naturalmente il tema è di carattere europeo perché parlare di Federico II significa parlare anche dell'imperatore del sacro romano impero quello che rappresentava un'unità politica e spirituale in qualche modo non nel senso religioso ma nel senso perlomeno ideale dell'Europa centrale che aveva però anche una sua sede una sua presenza e una sua attività ricca di prodotti in Sicilia quindi questo panorama di tante differenze sia di parlato sia non l'ho detto prima di tradizioni scritte oltre al latino si erano via via affermate tante tradizioni di letteratura chiamiamola così poetica prosastica eccetera in vari centri d'Italia l'Italia dei comuni l'Italia dei centri importanti a partire dai placidi campani se vogliamo richiamare anche questi però tutt'altra cosa era agli occhi di Dante la tradizione di lingua e di letteratura poetica soltanto e di poesia d'amore e vagamente morale naturalmente promossa da Federico II nel regno di Sicilia e il perno come dire la colonna il pilastro al quale si aggancia fortemente Dante per poter elaborare tutta una teoria che risulta un po' curiosa ai nostri occhi perché noi siamo informati di una serie di fenomeni che forse forse a lui erano ignoti ma fatto sta per non perdere il filo principale di questa lunga premessa che secondo me è indispensabile quando si parla delle idee di Dante lunga premessa sul panorama italiano come appariva agli occhi di Dante come l'ho definito prima con questa eccezione della presenza dell'organizzazione della presenza di una corte con tutti gli attributi che ha una corte tutte le manifestazioni che ha una corte e addirittura una tradizione sia pure solo di poesia di lirica d'amore in lingua volgare promossa, avallata e addirittura coltivata dallo stesso imperatore si attacca a questo punto diciamo e ci lavora sopra e ne fa appunto il riferimento principale per affermare intanto una cosa qui noi possiamo perfino sorridere di queste affermazioni di Dante se non vedessimo che in questo modo lui è riuscito a far valere le sue posizioni lui lo dà come esistente nella forma che abbiamo anche noi documentata nei codici mentre noi sappiamo che dietro c'è un'operazione di trasferimento di questi testi da una forma fortemente siciliana mescolata con qualche altro elemento di volgari italiani di provenzali, di francesi, di latino quindi una lingua mista di questi elementi passata però attraverso le copie dei copisti toscani appariva agli occhi di Dante fosse ingenuo ma non credo perché doveva essere certamente a conoscenza che era una toscanizzazione, si trattava di una forte toscanizzazione dei prodotti in lingua siciliana illustre ma lui a prescindere dal giudizio che dà su questa forma ragiona su questa produzione per elaborare la sua teoria del volgare illustre anzi per elaborare tutte le sue idee intorno alla lingua di cultura cioè quell'oggetto che mancava in Italia volendo comprendere tutto lo spazio italiano comprese le isole sia bene fa questo riferimento perché Dante riassume in quattro aggettivi la sua concezione di quella che è una lingua di cultura e quindi della potenza che può avere una lingua di cultura volgare illustre cardinale curiale aulico sono quattro aggettivi sui quali ragiona molto nel De vulgaria eloquenzia sono passato direttamente al De vulgaria eloquenzia poi riprenderò il discorso sul convivio che è contemporaneo dove invece il gioco è tutto nei confronti del latino e delle altre lingue romanze concorrenti ma fermiamoci per ora sul De vulgaria eloquenzia il centro della sua elaborazione è dato da questa illustrazione dei quattro caratteri che deve avere una lingua di grande cultura da essere alla pari con le altre che sono fondamentalmente poi il franzale francese che dominavano l'Europa come lingue di cultura lingue di letteratura lingue di poesia ma non solo di poesia e quindi insidiavano le posizioni di una qualsiasi altra lingua di cultura sovraregionale in Italia illustre perché dobbiamo noi riflettere con considerazioni moderne su questi aggettivi almeno a me viene fatto così possedere una lingua di cultura è qualcosa che fa dell'essere umano, del cittadino eccetera uno capace di operare, pensare, comunicare con gli altri con maggiore efficacia, capacità, rispetto eccetera quindi può sembrare un po' estrinseco questo carattere di illustre perché da lustro a chi lo usa significa indicare persone che hanno una capacità linguistica superiore legata alla scrittura qui apro una parentesi per quanto mi risulta Dante non riflette sulla differenza tra parlato e scritto se non indirettamente perché lavora su testi che sono arrivati attraverso i codici, attraverso la scrittura quindi tiene conto di un prodotto scritto ma noi sappiamo che quando una lingua si è arricchita attraverso il codice scritto la codificazione che avviene prevalentemente attraverso la scrittura acquista una potenza maggiore è l'effetto dell'alfabetizzazione sostanzialmente per dire per usare un termine di attuale insomma di epoca moderna quando lui parla di illustre che possedere questa lingua di cultura che è anche fondamentalmente forse scritta da lustro come noi diciamo di chi oggi è ben fornito di una capacità di usare l'italiano scrivendo e parlando Aulico e beh a prescindere dall'ordine con cui usa questi quattro concetti è chiaro che è riferito all'aula di un grande re, di un imperatore addirittura cioè è la lingua che in un luogo come quello in cui si hanno le manifestazioni più alte del potere politico, della conduzione diciamo politica di uno stato eccetera questa lingua è degna di è l'unica degna di essere usata in un ambiente come quello dell'aula e l'aula c'era perché Federico II aveva creato una sua corte in Sicilia e poi ritorneremo alla questione della sicilianità curiale questo è molto importante anche questo aggettivo perché significa l'uso amministrativo quindi vedere le funzioni di una lingua anche per quanto riguarda trattare la trattazione di tutte le vicende di una organizzazione politica amministrativa eccetera significa tener conto degli usi pratici della lingua non è marginale questo riferimento alla curialità intendendo la curia come organo amministrativo supremo o articolato in varie realtà regionali quindi supera di un balzo questa situazione di una pluralità di curie dicendo che è un'unica curia articolata nelle varie realtà regionali e cittadine e naturalmente illustre cardinale cardinale perché serve di orientamento alle altre varietà è un concetto molto moderno perché noi sappiamo e questa è la ricerca la teorizzazione moderna che ci rende sensibili a questo altro aspetto noi sappiamo che nel parlato si tiene conto di realtà regionali ma ci si sforza o perlomeno per tante situazioni ci si orienta su un modello che è quello dell'italiano standard tutti gli studi sull'italiano regionale dagli anni 20 del novecento in poi ci rendono attenti a questo aggettivo usato da ante cardinale perché funziona da cardine come quello della porta intorno al quale tutti gli altri girano cioè si orientano beh la possiamo anche intendere alla maniera odierna di un uso parlato prevalentemente parlato in cui noi non abbandoniamo del tutto alcune abitudini di pronuncia specialmente o morfologiche dell'idioma regionale locale ma sostanzialmente parliamo italiano quindi la funzione che questa lingua di cultura ha per orientare verso una unità di uso e di capacità di comprensione da parte di tutti è un altro aspetto che lui coglie pienamente non che fosse diffuso all'epoca su un italiano regionale come si è diffuso nel novecento e ancora oggi però ha colto questo aspetto naturalmente illustre il significato è l'aggettivo che esprime le qualità maggiori cioè di una permanenza nel tempo di una codificazione hai detto tutto questo in termini moderni come si possono ricavare i significati che si possono ricavare da questo concetto che sembrerebbe estrinseco da lustro a chi lo usa e cioè lo rende comprensibile significativo denso, ricco nell'uso più ampio possibile quindi lavorando su questi concetti arriva a fare del concetto di volgare illustre l'obiettivo da raggiungere in Italia tra l'altro cosa che non ho detto non usa il termine italiano sappiamo bene che questo aggettivo non è usato da Dante usa italico quando vuole far riferimento anche alla dimensione geografica italiana però in sostanza se c'è una prospettiva in tutto il pensiero di Dante e naturalmente tutto questo si lega all'opera effettiva del poema un'opera che ha agito da sola senza l'apporto di questi concetti perché sappiamo che i manoscritti di queste opere hanno circolato pochissima quindi è chiaro che l'effetto di Dante è avvenuto attraverso la diffusione della commedia e qui gli aspetti sono molti altri l'immediata circolazione sappiamo che mentre era in vita i versi del poema via via che lo componeva circolavano e sono stati registrati dai notai bolognesi in occasioni particolari eccetera l'immediata diffusione attraverso centinaia di manoscritti mi pare che entro il 300 si conservino 600 manoscritti della commedia più quelli che si sono perduti e poi il numero cresce con le stampe quando c'è la stampa naturalmente l'effetto poi di moltiplicazione delle copie quindi non c'è alcun dubbio che l'opera l'effetto quello che tutti riconosciamo a Dante quando lo consideravo padre della lingua italiana è avvenuto attraverso l'opera perché è opera poetica il fascino l'ampiezza di orizzonti di temi dei temi esistenziali che riguardano tutta l'umanità naturalmente non mi soffermo su questi aspetti perché significa dire delle cose troppo ovvie è stata la commedia con la sua diffusione sia pure tra luce e ombre perché sappiamo che nel 500 ci fu chi questo è Pietro Bembo considerava questa meravigliosa opera come un campo di grano molto rigoglioso ma pieno di erbacce eccetera non mi soffermo su questo altro aspetto quindi tra luce e ombre tuttavia superando le ombre è attraverso la Crusca il rilancio che ne ha fatto la Crusca non solo con l'edizione del 1595 che ha funzionato come edizione di riferimento per due o tre secoli ancora fino ai primi dell'ottocento di questo è bene che si tenga conto e poi naturalmente tutto ciò che si è detto e si è scritto intorno a Dante è quella l'opera con fraintendimenti delle opere teoriche e qui voglio recuperare anche i riferimenti al convivio perché se il De Vulgari Eloquenzia è così ricco di spunti da verolinguista geolinguista sociolinguista critico letterario con tutte le citazioni e i giudizi che dà sui ritmi le forme delle parole eccetera il convivio ricco in due opere incomplete questo è un dato di fatto che rende più significativo quello che c'è quello che ha dato insomma basta e avanza quello che ha realizzato di queste due opere nel convivio il tema fondamentale è che anzi sono due uno è quello di distinguere il volgare dal latino combattere la predominanza assoluta del latino avere il coraggio di dire il latino è il sole che tramonta il volgare il volgare illustre che stava elaborando la cui idea stava elaborando nell'altra opera è il sole nuovo che sorgerà e illuminerà le masse quindi i concetti di questo genere sono esposti in volgare volgare letterario volgare prosa dotta prosa argomentativa robusta del convivio dando prova appunto anche delle capacità del volgare letterario di essere usato per ragionamenti molto complessi non più solo in latino quindi nel convivio in sostanza combatte contro il latino e combatte anche contro la pusillanimità dei molti italiani che si fanno belli di usare le lingue straniere è un anticipo una prima segnalazione della veduta corta della pusillanimità della provincialità di tanti abitanti del nostro paese ancora oggi che non hanno maturato naturalmente l'idea dell'importanza di una lingua materna viva e di cultura che si vogliono far belli di usare un'altra lingua Dante coglie già nei suoi contemporanei questo atteggiamento che troviamo contro il quale combattiamo ancora oggi insomma proprio ancora oggi coloro che pusillanimi si fanno belli di usare parole di altre lingue precisando che è molto importante conoscere altre lingue quindi ci dà anche una lezione di educazione linguistica al plurilinguismo ma non tanto da disprezzare la lingua materna insomma questa ricchezza di spunti che sono nelle opere teoriche illustrano diciamo dalle spalle la commedia che ha poi quella forza che ha per effetto della poesia della vastità dei temi naturalmente dell'efficacia di rappresentazione di tante situazioni temi umani universali riferimenti al mondo antico latino e greco per quel tanto che ne poteva sapere in via indiretta perché non conosceva il greco ma tuttavia i grandi filosofi e poeti greci li onora non so a soffermarmi in che modo e dove li colloca nel suo viaggio eccetera ma dunque nell'opera per arrivare a portare a compimento questo poema straordinario grandioso ricco di tanti temi tanta cultura anche questo meraviglia storidisce insomma vedere quanto abbia potuto pescare dalle tradizioni di cultura arabe attraverso il latino e poi della teologia della filosofia medievale e della storia del mondo antico eccetera tutto questo naturalmente non gli impedisce durante la stesura della commedia di toccare di nuovo più volte il tema linguistico e della lingua viva non solo vari personaggi vengono riconosciuti al parlare lui stesso viene riconosciuto da Farinata perché parla in un certo modo quindi accenni alla lingua sono tanti ma verso la fine della commedia quando è davanti a Dio e ha la visione di Dio che cosa chiede a questa somma luce che la sua memoria conservi quanto possibile di quella visione e che la sua lingua sia tanto possente da poter trasmettere alla futura gente l'impressione ricevuta tutto ciò che ha colto da questa visione di Dio questo riferimento finale nella commedia e fa la lingua mia tanto possente che io possa dare che io possa trasmettere questa visione alla futura gente ci dimostra che era ben consapevole di aver fatto tutto il possibile per creare per via di fatto naturalmente la lingua della commedia sa stessa naturalmente nel serbatoio della lingua italiana per secoli e secoli e dimostrazione anche di come si possa elaborare creare sono tanti i neologismi creati da lui ma non alla maniera dei neologismi di oggi i famosi verbi parasintetici insemprarsi indovarsi inoltrarsi che è diventato di uso comunissimo quindi in tutta la commedia con la capacità produttiva della lingua ha avuto l'effetto che sappiamo dietro c'era però questa convinzione maturata attraverso le riflessioni da geolinguista da storico delle lingue geolinguista che abbraccia con un colpo d'occhio sia pure velocemente superficialmente l'intera Europa nel devolgare eloquenza si orienta un po' tra le tre grandi tradizioni linguistiche che ci sono in Europa dunque lo scopo di studiosi non solo del linguaggio poetico della commedia e dei temi di contenuto di storia di filosofia di scienza che c'è nella commedia ma degli studiosi della lingua io credo che vada appoggiato anche a questa riflessione e questa segnalazione a chi non ha la pazienza di sobbarcarci a leggere il devolgario eloquenza per di più in latino anche se ne esistono ottime traduzioni italiane commentate l'ultimo quella commentata da Mirko Tavoni è la più ricca fino ad ora quindi segnalare a un pubblico più vasto che dietro l'opera colossale ciclomica forse unica nel mondo di cui ci gloriamo che la commedia c'è una ricerca una riflessione un'indagine sul potere della lingua sulle varie forme che la lingua assume attraverso la cultura l'elaborazione i temi che si devono trattare le funzioni che svolge nella società questa riflessione fa di Dante pensatore del linguaggio una una fonte modernissima ancora oggi e questo è bene farlo sapere intorno e questo è il campo nel quale io mi sono avventurato perché non è quello del critico letterario nemmeno quello dello studioso di metrica e di effetti della lingua del linguaggio poetico che richiedono altre attitudini ma quello del pensiero che è retrostante a quest'opera è stato il mio campo anche di formazione dagli studi universitari dagli studi fatti con Alfredo Schiaffini dagli studi successivi dalla frequentazione della Crusca dall'impegno nella Crusca perché la Crusca riscatta Dante dalla quasi condanna di Pietro Bembo e naturalmente nel vocabolario degli accademici della Crusca la presenza di Dante è così forte così decisiva per sostenere quell'impresa che anche se poi il verso che è diventato emblema è attinto da Petrarca qui c'è l'altro discorso del confronto tra questi due colossi della nostra letteratura del 302 tra tre con l'altro boccaccio grandissimo estimatore di Dante ma io credo che un pochino si debba diffondere anche l'informazione su questa dottrina su questa ricerca linguistica di Dante di vederlo un po' come ricercatore delle specificità dialettali stende una specie di atlante linguistico italiano come si poteva concepire a quell'epoca naturalmente e tutto questo riferito a questa situazione italiana ritorno un po' al tema iniziale di questa mia conversazione rendiamoci conto di cosa era come appariva l'Italia agli occhi di Dante alla presenza di Dante ai viaggi di Dante e come a fronte di questo contesto ricco di tante cose d'arte di iniziative di ogni genere di commerci non ne parliamo di anche di speculazione scientifica pensiamo al libro dell'Abaco e dell'introduzione dei numeri arabi attraverso Fibonacci insomma non era un paese povero di cultura tutt'altro ricchissimo di cultura ricchissimo di varietà linguistiche e questo naturalmente all'occhio di Dante rappresentava un punto debole rispetto al quale con l'opera di fatto e con il suo ragionamento che è di grande attualità scientifica ha cercato di ancora ai nostri occhi e il suo un inquadramento di questa realtà linguistica in rapporto alla realtà di altro genere un tema di straordinaria ricchezza da far conoscere nella misura possibile nelle scuole e a un pubblico di ascoltatori o lettori un po' più interessati un po' più pazienti a seguire le argomentazioni dei linguisti grazie Maria Ida Antonia Ida per questa occasione che mi hai dato di ricollegarmi con gli amici presenti con me e soffermarci insieme su questa su questi temi grazie ancora a tutti e saluto gli ascoltatori grazie a te Francesco conoscevamo bene il valore dei tuoi interventi quindi veramente siamo grati per averci richiamato a questa importanza dello studio della lingua purtroppo la storia linguistica italiana è andata avanti nei secoli con una diciamo una grave distinzione fra il parlato e lo scritto poi abbiamo avuto negli anni sessanta la televisione che in qualche modo ci ha riuniti da un punto di vista linguistico ma a me sembra su questo volevo proprio il tuo parere a me sembra che attualmente i mezzi di comunicazione cinema televisione e così via ritornino in qualche modo a una differenziazione linguistica cioè mentre il giornalista degli anni sessanta si sforzava di parlare un italiano corretto anche dal punto di vista sia grammaticale sintattico e di pronuncia mi sembra che fra film telefilm ma gli stessi telegiornali non si parli più un italiano standard ma si parli di nuovo un italiano regionale ecco volevo una tua riflessione su questa cosa che mi turba un pochino perché mi sembra in qualche modo un regresso io non sono contraria ad accogliere nuove forme linguistiche ma non un ritorno al dialetto hai ragione bisogna essere vigili sulla situazione perché Dante ha fatto tutto quello che poteva e ha fatto moltissimo e scrittori operatori studiosi docenti dei secoli successivi hanno rincalzato fatto fruttare quest'opera per carità non saremmo al punto in cui siamo almeno dal pieno novecento in poi quando un certo assestamento culturale della società italiana è avvenuto anche per effetto di migrazioni e mescolamenti eccetera tutto questo è avvenuto e Dante ci ha dato tutte le mani che poteva dare però i fatti i fattori sociali tecnologici e di vario genere che muovono le le sorti umane muovono la vita umana sono continuamente all'opera e bisogna non perdere quello che abbiamo raggiunto perché si può dire almeno questa è la mia convinzione maturata tra gli studi universitari mi sono iscritto all'università nel 1950 mi sono laureato nel 54 quelli sono gli anni di prima vera formazione con Alfredo Schiaffini e poi con Enrico Castellani e poi gli altri docenti molti di Firenze Lencioni Contini eccetera che ho avuto il piacere e la fortuna di frequentare mi sono formato e ho seguito poi anche le linee diverse di sociolinguistica di geolinguistica di linguistica teorica perfino per cercare di capire meglio possibile e arrivare alla conclusione che in fondo intorno al 2000 noi avevamo raggiunto un certo assetto anche linguistico soddisfacente l'istruzione andava avanti si diffondeva la scuola si era assestata in misura sufficiente molti cambiamenti terremoti insomma spinte che vengono dalle vicende generali della tecnologia che è l'espressione ultima forse di altre forze di altri economici sociali comunicazioni eccetera rimettono in gioco tutto e dobbiamo prima di tutto non perdere il livello dal punto di vista linguistico al quale si può dire che nei primi decenni del 2000 eravamo arrivati ma i fattori nuovi sono potenti bisogna saperli fronteggiare l'impegno educativo deve crescere deve essere sempre forte e naturalmente non trascurare il risultato o meglio le acquisizioni le convinzioni che avevamo raggiunto 30 40 anni fa proprio in materia linguistica della necessità di un italiano standard medio da saper governare nello scritto e nel parlato insomma erano le idee che alla fine del novecento circolavano di più riguardavano proprio questo assetto che la nostra società aveva raggiunto dal punto di vista linguistico per cui tiravamo un respiro di sollievo i fattori di disturbo di rimescolamento che vengono da tutte le vicende naturalmente umane comprese quelle patologiche come quelle presenti minano gli equilibri precedenti è il momento di utilizzare tutte le nostre forze perché ci sia un'apertura a fatti nuovi una considerazione di necessità nuove eccetera ma non perdere quello che abbiamo conquistato faticosamente dall'età di Dante attraverso il rinascimento il risorgimento le prove durissime della prima metà del novecento con le due guerre mondiali eccetera superando tutto questo avevamo trovato la via da percorrere un po' più chiara davanti ai nostri occhi naturalmente combattere tutte le forze che rimescolano gli assetti sociali è impossibile gli assetti culturali sociali economici eccetera sono settori in movimento continuo su scala mondiale e dobbiamo non perdere lo strumento tra l'altro tra l'altro non solo per fare poesie canzoni e romanzi ma lo strumento per organizzare la nostra vita associata quindi un italiano d'uso pratico amministrativo legislativo politico sufficientemente robusto questo naturalmente è in pericolo perché la debolezza storica storica indubbiamente pensare qui ritorniamo per un momento a Dante Dante ha davanti a sé provenzale e francese come due lingue ormai fortemente affermate si rende conto che in Italia questo non c'è e insomma quindi una distanza uno scacco di cinque sei sette secoli noi siamo arrivati a una condizione come quella francese dell'epoca di Dante specialmente della Francia settentrionale dominata da Parigi ci siamo arrivati dopo sette secoli da Parigi dai francesi e quindi abbiamo camminato abbiamo corso si può dire specialmente negli ultimi tempi siamo attenti perché se ci manca lo strumento per pensare comunicare chiaramente organizzare la vita sociale in modo chiaro con tutte le acquisizioni nuove perché lo scambio tra le lingue è fondamentale il plurilinguismo individuale è altrettanto importante e anche Dante lo dice è grande cosa imparare le lingue degli altri ma non fino al punto di disprezzare la propria perché abbiamo bisogno di uno strumento per organizzarci come comunità italiana di fronte a tutte le sfide della modernità della ultramodernità tu hai posto delle domande che spingono a discorsi terribili difficili aperti su fronti mondiali e io non so più dirti più di quello che di queste timori ed esortazioni a far valere quello che avevamo conquistato duramente dopo sette secoli rispetto ad altri paesi professore mi scusi allora non so se era prevista una uno se era previsto uno spazio per domande e risposte noi abbiamo ricevuto una domanda mi dica lei se vuole che la legga vediamo allora la domanda è posta da Massimo Seriacopi chiede quali sono gli intenti educativi di Dante quando si rivolge alla futura gente dal punto di vista della questione della lingua si vede che questo signore ha colto quest'ultimo accenno che io ho fatto dei tanti punti in cui Dante nella commedia parla della lingua parla della torre di va bene fonda le radici nel pensiero la riflessione sulle questioni della pluralità di linguaggi ne dice di tutto e di più mi è sembrato importante vorrei citarlo proprio a questo signore che si è soffermato ha colto questo fatto questo dato di questo dunque dove così se lo può leggere anche perso conto nel ventiseiesimo del paradiso nel no nel trentatreesimo del paradiso versi sessanta sei sette sette due dice fa che io conservi la memoria di questa visione celestiale la visione di Dio che di più e fa si rivolge alla somma potenza somma luce a Dio stesso chiede a Dio fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente sì è vero che sta trattando della visione di Dio e quindi vuole che la sua lingua sia capace di esprimere questa visione ma vuole che arrivi attraverso la sua lingua alla futura gente e questo è proprio il suggello di un'intenzione di un quasi progetto se ripensiamo a tutto quello che ha cercato di dire con le opere teoriche ecco questo posso dire se c'è qualche altra domanda ne aggiungo io un altro smutto nel convivio quando descrive le capacità della lingua volgare e lo fa con un'immagine bellissima dicendo che il volgare è come il pane orzato il pane fatto con molta crusca insomma non di puro farina bianca pane addirittura mescolato con l'orzo questo pane servirà a satolare le migliaia e e me ne avanzeranno le sporte piene sembra un abbattuto qualcosa che ha ripreso anche da qualche fonte biblica o cosa del genere ma che cosa può significare il fatto che io dotto io dante io chiunque abbia potere di questa lingua non solo riuscirà a dare cibo abbondante agli altri ma gliene avanzeranno le sporte quindi le ceste piene significa che una lingua viva una lingua di cultura ma viva è capace di produrre elementi nuovi quindi di far fronte di sviluppi è produttiva può generare nuovi verbi nuovi aggettivi nuovi costrutti quindi io se possiedo una lingua viva e di grande cultura questa lingua mi darà la possibilità di affrontare concetti nuovi situazioni nuove perché ne avrò una riserva si tratta proprio della continua produttività di una lingua viva specialmente di cultura che viene ibridata a contatto con le altre lingue tra l'altro riprende dalle lingue classiche questo grande serbatoio linguistico delle lingue moderne quali sono il greco e il latino che hanno nutrito tanta parte di tutte le lingue europee non solo di quelle derivate dal latino quindi c'è questo concetto di una lingua viva e di grande cultura che produce anche elementi strutture nuove per far fronte a nuovi appetiti visto che parla di fame e di chi vuole saziarsi di questo pane francesco solo una cosa tu hai scritto molto bene di una coscienza linguistica debole e su questo punto credo che è necessario insistere quindi verso una maggiore consapevolezza no è questa la strada che naturalmente attraverso la scuola ma anche attraverso istituzioni come l'Accademia della Crusca e tante altre e questa è la strada che bisogna percorrere con grande forza hai perfettamente ragione naturalmente per avere maggior forza maggior fiducia di poter continuare quest'opera bisogna anche rendersi conto di questo peso negativo del passato di frammentazione insomma un'Italia che al momento dell'unificazione aveva forse l'ottanta per cento di analfabeti quindi assolutamente incapaci di usare l'italiano solo legati all'idioma locale e ma sono passati appena centosettanta centosettant'anni non è mica tanto quindi bisogna avere coscienza del peso di una tradizione che poi è ricca di altri aspetti i dialetti sono cose a proposito dei dialetti forse bisogna diffondere meglio questa convinzione è possibile parlarli impararli anche da chi li usa non è possibile insegnarli didatticamente la questione sembra superata ma una ventina di anni fa si pensava che dovesse essere introdotto l'insegnamento scolastico dei dialetti gli dialetti sono una cosa meravigliosa bella un'altra lingua ricca profonda dell'anima di tutto quello che vogliamo che io posso imparare da chi lo usa non posso impararlo attraverso l'insegnamento scolastico non ci sono altre domande quindi ringrazio ancora a tutti voi ringrazio le care amiche della crusca qui presenti e naturalmente ringrazio gli altri organizzatori questa volta abbiamo potuto svolgere il nostro lavoro con tranquillità grazie veramente francesco di questo dono che ci hai fatto veramente ringrazio a nome anche del del foyer il l'associazione degli amici della lirica che è sempre presente alle nostre manifestazioni quindi dottor antonio palma che non ho non riesco a vedere per questa modalità ma sono certa che ci sta ascoltando e veramente ringrazio la crusca per questo grande supporto il supporto che da generalmente al nostro comitato della Dante Alighieri proprio perché anche la Dante Alighieri cerca con molta modestia naturalmente di portare avanti la conoscenza e l'amore per la nostra lingua quindi grazie vedo che sulla cato stanno vedo dei saluti vedo dei saluti da Rita Librandi Nicola De Blasi Elzbieta Yamrogic vedo questi messaggi ringrazio questi ed altri amici che hanno avuto la pazienza di ascoltarci ancora grazie veramente dal mio abruzzo in mezzo alla neve e da Lorenzo Renzi che si aggiunge in questo momento ciao Cino detto tra noi Cino bene arrivederci grazie arrivederci una prossima occasione chiudiamo la diretta streaming arrivederci grazie arrivederci a voi grazie streaming ho imparato anche ma dove è fatto ecco